Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di Luigi Van Vitelli, un importante architetto che ha legato il suo nome alla realizzazione della regia di Caserta. Luigi Van Vitelli era nato a Napoli nel 1700 e morirà a Caserta nel 1773. Rispetto a Juvarra, di cui è più giovane, è molto più attento a quelle che sono le esigenze del classicismo che si sta cominciando ad affermare. Infatti anche lui ha una formazione romana da cui apprende appunto tutte le caratteristiche, il classicismo sia del periodo rinascimentale sia quello legato all'impero romano, ha una profondissima preparazione culturale e anche lui collega questi elementi con la tradizione barocca. Rispetto a Juvarra perde un po' di quella leggerezza, di quella riosità e il suo linguaggio sta proprio ormai evolvendosi verso un linguaggio che prelude al neoclassicismo. Infatti rappresenta bene questo passaggio tra Roccoco e il neoclassicismo. Anche Luigi Van Vitelli è figlio d'arte, anzi suo padre è un famosissimo vedutista olandese, Gaspar Van Vittel. Quando si trasferiscono in Italia il figlio in particolare italianizzerà il suo cognome olandese Van Vittel in Van Vitelli e Gaspar Van Vittel insegna a dipingere al figlio ma poi il figlio decide di scegliere un'altra carriera, quella dell'architetto. Si trasferisce infatti giovanissimo a Roma, si forma anche lui nell'ambiente di Carlo Fontana e addirittura entra in contatto con Juvarra con cui collabora per la sacristia vaticana ma come tutti i grandi artisti del tempo è profondamente attratto dalle antichità classiche che studia attentamente e restaura. Vi dicevo prima che Luigi Van Vitelli è molto colto e quindi affianca questo suo studio diretto dell'antichità con la conoscenza dei trattati antichi, rinascimentali, con la conoscenza di Vitruvio e poi sempre sulla base dei suoi legami con la corte papale e con l'ambiente dei cardinali riceve delle commissioni specialmente nell'Italia centrale. Il successo arriva con la nomina ad architetto di San Pietro nel 1726. Infatti Van Vitelli si fa una fama internazionale come tecnico. Pensate che quello che riesce a consolidare la cupola di Michelangelo che era gravemente lesionata e introduce questo sistema di cerchiature con catene di ferro che farà scuola a tutta Europa e quindi abilissimo dal punto di vista tecnico. Incomincia ad essere un architetto che vira verso l'ingegnere, è un restauratore ed in particolare ha un'incredibile conoscenza della problematica legata alla statica. Riprende un'opera che era rimasta incompiuta di Michelangelo, cioè la chiesa di Santa Maria degli Angeli all'interno delle terme di Diocleziano e la restaura, scusate la restaura, la conclude nel 1749. Ma la commissione più importante, quella che segnerà proprio la sua vita, è la chiamata diciamo così di Carlo III di Borbone che nel 1751 lo chiama Napoli e gli commissiona il progetto della regia di Caserta. Il progetto della regia di Caserta è un progetto non solo architettonico ma anche politico. Infatti Carlo III di Borbone voleva fare la stessa operazione politica che aveva realizzato Luigi XIV il Re Sole, cioè di spostare gli uffici amministrativi, la sede del governo dalla città ad una residenza, ad una regia esterurbana. Luigi XIV aveva fatto ciò trasportando la corte e l'amministrazione dello Stato da Parigi a Versailles, Carlo III di Borbone voleva fare la stessa cosa da Napoli a Caserta. Poi vedremo che per una serie di ragioni il suo progetto non andrà a buon fine, ma è sicuramente una visione estremamente moderna e illuminata di un sovrano che voleva modernizzare moltissimo il suo Stato. E quindi Van Vitelli è chiamato non solo a disegnare, a progettare una reggia ma una vera e propria cittadella amministrativa, una vera e propria cittadella politica che in qualche misura si collegava a tutto l'ambiente circostante, andando a ridisegnare una parte della città di Caserta. Caserta è profondamente legata a Van Vitelli perché buona parte del turismo della zona passa appunto attraverso la visita della reggia di Caserta e a Van Vitelli è anche intitolata l'Università della Campania che ha appunto anche una sede a Caserta oltre che a Napoli. Quindi la reggia di Caserta vi dicevo è un'operazione di carattere territoriale, proprio il simbolo di uno Stato borbonico che si vuole rinnovare, che è razionale, efficiente, potente e grandioso. Vedremo che la reggia di Caserta sarà poi ultimata dal figlio Carlo Van Vitelli dopo la morte di Luigi. La reggia di Caserta è immensa, è esemplata su Versailles, racchiude tutte le funzioni amministrative, politiche, residenziali, è espressione dell'assolutismo illuminato, ma è principalmente una reggia enorme. Pensate che conta 1200 stanze, copre 47.000 metri quadrati, quindi quasi 5 ettari, ha 1790 finestre ed è completata da un giardino, anzi da un parco spettacolare. Questo è il progetto originale, progetto originale che come potete vedere andava a disegnare anche una grande pianta ellittica che si collegava con un rettifilo al resto della città e al resto del territorio. Dietro vediamo i giardini esattamente poi, in realtà non sono stati poi realizzati secondo questo progetto perché per mancanza di fondi i parterre non verranno eseguiti. Questa invece è la pianta dell'edificio, come potete vedere è una pianta regolare, quadrangolare, che vede la creazione di quattro enormi cortili interni attraverso l'intersecazione a croce dei bracci di questo quadrilatero. Notate come l'elemento di snodo è proprio questo vestibolo che prende un po' il modello di di Palazzo Madama di Juvarra e che nello stesso tempo è l'elemento di snodo, di distribuzione di tutto il complesso. Come potete vedere ci sono delle parti in queste lunghissime e un po' monotone, se vogliamo, facciate che aggettano leggermente e sono quelle relative alla parte centrale della facciata e alle parti laterali. Questa è una veduta dall'alto, vedete appunto come il giardino poi sia stato realizzato in modo diverso e si vede bene appunto la struttura quadrilatera, abbiamo delle dimensioni, vi dicevo, straordinarie, 247 metri per 184, un'altezza di quasi 40 metri e quattro cortili rettangolari che hanno ciascuno una dimensione di 3800 metri quadrati. Le facciate sono lunghe più di 200 metri, questo era il progetto che poi in realtà non venne eseguito perché non venne eseguita la cupola centrale e neppure le quattro torri angolari. Questa è la facciata anteriore, quella che dà verso la città, ha 108 finestre ripartite su tre piani in maniera ordinata e geometricamente perfetta e come potete vedere ha un leggero aggetto della parte centrale con il portale e dei due lati e due fianchi, insomma delle due parti che avrebbero dovuto essere conclusi con delle torri, abbiamo la parte inferiore in bugnato, in bugnato levigato, in travertino, la parte superiore invece in mattoni, cioè in laterizio e l'alternanza delle finestre timpanate e centinate. Vedete che l'unitarietà viene garantita dalla presenza di colonne composite di ordine gigante. Questo è il piazzale anteriore che avevamo già visto nella precedente incisione e qui vediamo l'ingresso principale, quella che viene chiamata la porta regia, è rivolta verso la città, è concepita come un arco trionfale nella parte inferiore e come un tempietto tetrastilo, cioè con quattro colonne nella parte superiore. Questa era importante perché permetteva l'affaccio del re che poteva parlare alla popolazione. Questa invece è la facciata posteriore che come potete vedere è meno austera, è più mossa, più variata, è più libera se vogliamo, meno monotona e richiama anche qui il modello di Versailles. Il vestibolo di ingresso, vedete nella pianta sotto, come è un elemento proprio distributivo di tutto il complesso, è un vestibolo ottagonale e permette appunto il potersi muovere in tutte le direzioni. Ha un diametro di 15 metri e 20 ed è adornato da 20 colonne d'oriche. Il porticato che parte appunto dal vestibolo è un porticato che ha delle lunghezze, una lunghezza infinita e presenta appunto questi arconi a tutto sesto e queste volte a botte. se guardate questa immagine sulla destra vedete il grande scalone d'odore, è uno dei più grandi, anzi il più grande scalone d'Italia, è largo 18 metri e 50, è alto 14 metri e mezzo e ha 117 gradini e si di parte da quel vestibolo ottagonale che noi abbiamo visto precedentemente. Questo è stato uno dei, è stata una delle location più famose di moltissimi film, in particolare Star Wars, Federando e Carolina, ma se andate a vedere poi al fondo della presentazione troverete una sitografia, vedrete che c'è tutto l'elenco delle decine di film che sono state girate nella reggia di Caserta. Queste sono appunto delle immagini che fanno vedere delle scene girate appunto a Caserta relative a Star Wars 2 e a Star Wars 1, la minaccia fantasma e l'attacco dei cloni. Lo scalone è riccamente decorato con dei marmi preziosi, ha dei rilievi molto accurati e ha questi bellissimi leoni giganteschi che sono opera di Pietro Solari e di Paolo Persico. All'interno del palazzo della reggia ovviamente si trova una cappella, la cappella di palazzo, quindi una cappella palatina che richiama la cappella della reggia di Versailles. Questo spazio della cappella palatina è stato molto danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato appunto bombardato e sono andati perduti tutti gli organi e tutti gli arredi stacri, adesso si presenta restaurato. Eccolo qua, la vediamo, lo vediamo con un certo spirito quasi rinascimentale, molto luminosa, molto armonica. Anche all'interno della reggia c'è ovviamente un teatro di corte che viene sistemato, insomma viene organizzato con una pianta ferro di cavallo, con il sistema palco che si è affermato ormai nel Settecento. Uno dei punti di forza della reggia di Caserta è sicuramente il parco, un parco che ha tre chilometri di lunghezza da nord a sud. Qui vedete proprio una immagine così schematica di questo parco che prevede un viale, praticamente un rettifilo che è adornato da vasche, da fontane e tutta una serie di giardini all'italiana e un giardino all'inglese. Che cos'è il giardino all'italiana? È un giardino che viene disegnato in maniera regolare, quindi tutti i vialetti, tutti i parterre, tutti i prati sono progettati progettati sia nell'aspetto della geometria, sia nell'aspetto proprio dello studio delle varietà di piante, di fiori che vengono piantati, ma anche nella decorazione in particolare sono famosissime le fontane della reggia di Caserta. Ecco questa è una veduta, vedete, di questi tre chilometri di viale che hanno cascate, vasche, che sono alimentate da un acquedotto che viene costituito appositamente, l'acquedotto carolino. E le fontane sono un elemento proprio decorativo, ornamentale, importante. I teatri d'acqua, d'altra parte, erano la tradizione italiana, nella reggia di Caserta ci sono cinque fontane maggiori e tutte sono decorate da bellissime statue o gruppi statuari. Non hanno una grande importanza dal punto di vista artistico, ma sicuramente sono degli elementi di ornamentazione, di decorazione, che fanno un po' da fondale teatrale a questa recita della vita di corte. Questa è la fontana dei delfini, in cui c'è un mostro marino con la testa di un delfino che è fiancheggiato da delfini più piccoli. Sono delle sculture di Gaetano Salomone in travertino e vedete che dalla bocca di questo mostro fuoriesce il getto d'acqua. Il getto d'acqua si ricade in una fontana e questa acqua che scende durante l'estate, perché d'inverno viene chiuso l'acquedotto, crea un effetto estremamente piacevole, anche uditivo, perché lo scroscio dell'acqua diventa un elemento estetico. Questa è la fontana di Cerere, Cerere è la dea dei boschi, la dea della fertilità dei campi, vedete che è circondata da ninfe, da amorini e ha un medaglione con la rappresentazione della Trinacria. La Trinacria è il nome antico della Sicilia, perché questo è il regno delle due Sicilie. A fianco abbiamo la personificazione di due fiumi della Sicilia, l'Anapo, l'antico Alfeo e l'Aretusa. Anapo era innamorato di Aretusa e anche qui c'è una storia molto famosa che sta alla base. La composizione è piramidale, in marmo di Carrara e Travertino e anche questa è un'opera di Gaetano Salomone. La più famosa di tutti è sicuramente la fontana di Diana e Atteone, che al termine del parco i due gruppi scultorei si trovano ai lati di questa grande cascata che è alta 82 metri, vedete come sta scendendo in maniera fragorosa, quasi di sentire il fragore dell'acqua la cascata. Allora Diana e Atteone è sicuramente uno dei miti più famosi, il cacciatore Atteone che se ne andava in giro con i suoi cani per cacciare, si trova di colpo a spiare la dea Diana che nuda sta facendo il bagno nell'acqua. Ovviamente alcune ninfe se ne accorgono, danno l'allarme e Diana arrabbiatissima con Atteone lo trasforma in un cervo, lo vedete qui nell'altro gruppo scultoreo e il povero cacciatore viene sbranato dai suoi cani. Vedete qui c'è un po' il ricordo della sorpresa tipica dell'estetica barocca nella scultura, pensiamo alle statue del Bernini, Apollo e Daphne in particolare e qui vediamo il momento della trasformazione. Atteone ormai ha già la testa di un cervo, ancora il corpo di un uomo e sta per essere sbranato dai suoi cani. L'acquedotto Carolino che è lungo diversi chilometri porta l'acqua del Tiverone fino alla sommità del colle che domina la reggia e di lì l'acqua scende e va a alimentare la grande cascata tutte le fontane e provvede a tutte le necessità idrauliche dell'intera reggia. L'acquedotto Carolino vedete ricorda molto gli antichi acquedotti romani e abbiamo finito così la vita e le opere di Luigi Van Vitelli, vi ricordo che potete studiare bene questa parte sul vostro libro, il quarto volume dell'itinerario dell'arte a pagina 100 e 104 e qui vi ho segnalato alcuni siti web, in particolare i primi due si spiegano appunto la figura di Luigi Van Vitelli e l'ultimo invece una presentazione molto accurata della reggia di Caserta.